Però non c'è sotto un attore, c'è Omega Senza niente Frate, adesso ti faccio guardare nella mia maschera, allora Frate, ti faccio guardare nella mia maschera Frate, hai mai provato questa margarita bella? Hai provato mai combattimento finale, questa modalità? Eh? E ma allora frate, sai cosa ti devi fare in questa? È una 20 versus 20 Chi rimane per... Il team che rimane con più persone in vita vince Eh, io non ho vinta una Cioè io non ho vinta una E è l'unica che ho giocato Frate, la villa sei, vero? Non rubarmi tutto Frate, dammi lo scar che hai trovato adesso Frate, qua sopra ci sono delle bende Frate Frate Ma c'era Ma c'era Questo qua Non ti interessa a te Ma c'era Ma c'era Ma c'era Non ti interessa a te Ti lascio lo scarro? Io non voglio prendere lo scarro, lo voglio lasciar a te Frate, perché ti si spuso? Mi sono rubato Mi sono rubato Oh, bro Frate, perché non ho preso te Da quella cassa che hai aperto te Frate, fermo che lo so è bene perché non volevo lanciartela frate lasciami loot frate frate l'ho ucciso vabbè infatti l'ho tolto un botto di vita la sticky granate ti ho buttato eh il precedente da uno di vita è dove la è uno non è che c'è un colpo morto manciotta perché non usiamo questo dove stai assentando e frate ma è tra di vita molto divertente frate mi devi lasciare le pende frate quello la è one shot dov'è? dov'è? dimmi dov'è eh ma l'avevi vittato eh ma lei l'ha sparato a caso? l'hai visto dov'era? e dov'era? qua? siamo io non posso cadere da mezzo centimetro frate te lo sei lasciato fare lo sapevo che non devo darti te questo compito no era un pompa frate io mi devo scendere eh controlli dei cespugli forse l'ho visto no no non erano ho sbrogato mille ma ti dimmi se se non sei lasciato perdo dove? 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 oh venti testa? oh venti testa? guarda aspetta mi chiusono dopo io se ti conosco muori te ok frate attento perchè io in questo momento devo prendere il loot prendo il loot frate frate lo bende hai trovato? frate trovo le bende c'è colpo in fuci e assalto magari quanti? due io dammi un colpo uno dammi uno ma allora ce n'hai di più ma è undici me ne hai dati undici eh ma dammene di più eh ma sono a otto ragazzi sai cosa faccio io? io mi butto e io zero ma perché guarda infame ti toglie dagli amici io volevo fare una cosa te ma rovini subito ne? c'hai un medito delle bende? frate frate lo sai la cosa divertente? è che io non c'avevo spazio quindi per lo scudo grande io avevo lasciato gli scudini avevo lasciato le bende adesso me le avrei tenute le bende non c'è gens fate ma io se mi riduci frate guarda qua ma perché non mi ho torto vado aspettami un attimo due secondi aspetta aspetta due secondi e quando tu sei fermo conto due secondi dai nooo Giorgio 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 vieni qua perché frate non ci posso credere che non ci riesco vabbè però boom è un campagno se ti lascia qua ma frate siamo il team con meno giocato genio del ma ma se io mi suicido a caso eeeh aspetta cosa faccio bravo eeeh no gente 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 quella piccina non ha quelli ci sparano eh sono di chi copriamoci fra no non sono io davvero i colpi i colpi eh cosa vuoi grazie io scudo adesso però arrivo più vita di te eeeh eeeh no perché 130 130 130 parte in garris si può era animal da gente come come ma stai fai fai tanto ah ma però io pensavo no io ho poca vita Dio, c'ho pagavita! No, c'ho dare di vita! Scoppa sull' Aspetta, aspetta! Ma le lascio qua le cose? Ma non vengo nu qua! Oh Dio! Porco due! Senza mirare ci ha fatto... Ho saltato a caso? Ho sparato senza mirare? Portalo, portalo! Siete, bravo! Non puoi andare in safe! Hai visto che giocata pro ho fatto? Tu? Frate, la salvo subito sta partita! E ho, come? Non puoi?